Buongiorno a tutti, è un grandissimo piacere essere qui e ringrazio gli organizzatori, Letizia Moratti in particolare perché mi ha fatto l'onore di essere qui per la seconda volta in questo evento. Io ho le slide in inglese, parlerò però in italiano. Prima di tutto responsible growth, ma la crescita di che? Del PIL semplicemente, io sono 20 anni quasi da che ero all'Ox e poi Presidente dell'Istat e in altre occasioni mi sono battuto per questa idea di andare oltre il PIL, che non vuol dire naturalmente che la crescita economica non sia importante, anzi cercherò di mostrarvi come il vero problema venga anche da quello, ma assumerò per un attimo il concetto che la crescita sia la crescita del benessere, che è più del PIL naturalmente. Questi sono due riferimenti, uno è il rapporto dell'ASVIS, l'altro è il libro all'Utopia sostenibile che ho pubblicato l'anno scorso. Ora, questi sono il rapporto dei World Economic Forum sui rischi globali. È una classica mappa dei rischi che gli imprenditori conoscono molto bene e sull'asse delle ascisse ci sono gli eventi ordinati per probabilità che accadano e sull'asse delle ordinate c'è quello dell'impatto. In alto a destra, cioè gli eventi a maggiore impatto e a maggiore probabilità di avverarsi, ci sono i temi del cambiamento climatico, la crisi idriche, l'emigrazione di massa, la disoccupazione. Queste sono quelle cose che preoccupano gli oltre mille leader di tutto il mondo sulle cui risposte è basato questo rapporto. Qual è il futuro che non vogliamo? Il futuro che non vogliamo è quello che l'Ocse ci ha mostrato in un rapporto di qualche mese fa. In alto vedete quello del tasso di crescita atteso per il PIL nelle varie aree del mondo, quindi nei paesi sviluppati circa l'1,75% all'anno per i prossimi 40 anni. Ora domando, ci sono tante persone di imprese qui, voi pensate che con un tasso di crescita del PIL all'1,75% il sistema capitalistico sia in grado di reggere? Come vedete quindi parliamo di sostenibilità economica, ma poi parliamo anche di sostenibilità sociale. Vedete a sinistra c'è il rapporto tra il reddito dei più ricchi e quello dei più poveri, previsto ancora dall'Ocse in crescita dopo la forte crescita degli ultimi anni. Perché? Perché il meccanismo del capitalismo attuale produce disuguaglianze crescenti. E poi naturalmente c'è il cambiamento climatico. Questa è una mappa dell'Agenzia per l'Ambiente europea, a sinistra ci sono le aree d'Europa che beneficeranno del cambiamento climatico, a destra quelle che invece avranno dei danni. E poi arriva l'impatto della quarta rivoluzione industriale. Chi vuole saperne di più può leggere il rapporto della Commissione globale sul futuro del lavoro, di cui ho avuto l'onore di far parte per l'Organizzazione Mondiale del Lavoro. Queste sono ancora stime Ocse che ci dicono che circa il 10% dei posti di lavoro attualmente svolti sparirà, non il 40% come alcuni dicono, ma il 40% cambierà radicalmente modo di essere svolto. E quindi o noi avremo le risorse per fare formazione continua durante tutto l'arco di vita, oppure non riusciremo certamente a gestire socialmente questo tipo di cambiamento. Nel 2016 in un evento alla Commissione europea, un evento proprio sul futuro dell'Europa, queste erano un po' le parole chiave. Cioè le non linearità e gli shock asimmetrici stanno diventando il new normal e lo stiamo vedendo. E dunque la conclusione è Imagine the Unimaginable and Thinking the Unthinkable. Come questo rapporto che invito tutti a leggere dice, è un rapporto basato su un'ottantina di interviste a leader da tutto il mondo, che spiega anche perché le nostre organizzazioni sono strutturalmente incapaci di prepararsi ai cambiamenti epocali. Cambiamenti epocali? Beh, queste sono le previsioni del Club di Roma, le linee tratteggiate, del famoso rapporto del 1972 sui limiti alla crescita. Come vedete a destra la popolazione, la linea rossa, cresceva fino a 8 miliardi nel 2030, per poi collassare e tornare a circa 6 miliardi nella fine del secolo. Le linee continue sono gli andamenti effettivi delle variabili. Come vedete nel grafico di centro, a un certo punto cadeva il cibo, la linea verde, questo faceva cadere l'output industriale di servizi e questo determinava il collasso complessivo del sistema. Il fatto che dopo 40 anni siamo sostanzialmente sulle linee previste da quel rapporto è abbastanza preoccupante, anche perché negli ultimi 40 anni abbiamo cambiato tutto e ciò nonostante sembra siamo ancora nelle linee di business as usual. Uno potrebbe dire che è esagerato. Questi sono i grafici dell'ultimo rapporto sempre già citato sui rischi globali, che mi ha molto colpito, perché vedete in alto a sinistra il numero di guerre e di conflitti nel mondo, che è al massimo storico, io devo dire non avevo realizzato. Se guardate a sinistra in basso, quello è il numero di morti in queste guerre e come vedete quindi sono tante ma piccole. E guardate a destra, quella è la quota di persone nel mondo che soffre di malnutrizione e soffre la fame. Una quota che è diminuita tantissimo per molti anni, ma che negli ultimi anni ha ricominciato a crescere. Allora la domanda che noi non possiamo non porci, questo è il primo elemento di responsabilità che ognuno di noi ha, è ci credo a uno scenario del genere, ritengo che siano tutte sciocchezze, ritengo che gli allarmi degli scienziati, compresi gli economisti e gli altri, siano fandonie oppure c'è un rischio vero. Perché se c'è un rischio vero non c'è un minuto da perdere, questa è la conclusione. E in molti casi siamo già oltre il punto di non ritorno. Questa è la prima responsabilità che ognuno di voi oggi ha. Chiederei alla regia per favore se spinge il bottoncino a sinistra e mi fa partire questo video. Si parla tanto della non sostenibilità ambientale. Se mi toglie l'audio a destra, per favore, qui ci sono due scimmiette che devono fare un lavoretto, spostare una pietra, ricevono un pezzetto di cetriolo, a un certo punto quella di destra riceve un pezzetto d'uva, quella a sinistra fa il lavoretto, riceve il cetriolo e come si direbbe in un talk show si incazza. Quella a destra fa il lavoretto, riceve di nuovo un acino d'uva, quella a sinistra per la quale fino a quel momento il cetriolo andava benissimo, dice fallo, fallo, lei si fida, non l'assaggia neanche e glielo ributta. Ecco, quando pensiamo alla non sostenibilità, all'insostenibilità, al di là del fatto che la natura si sta ribellando, il pianeta si sta ribellando, il vero tema è cosa faranno le persone, cosa stanno facendo le persone. Perché l'insostenibilità viene da lì, delle nostre società. Ora, è già stata citata, l'agenda 2030 è veramente un modo per affrontare questi problemi, è il punto più alto del consenso mondiale che è stato finora trovato su questi temi ed è un'agenda che ha a che fare con la povertà, con l'alimentazione, la salute, l'educazione, la parità di genere e poi l'acqua e poi, e questo è un grande cambiamento, la crescita economica, l'energia, l'innovazione e poi naturalmente anche l'ambiente. Allora abbiamo superato con questa agenda il pensiero che sostenibilità vuol dire ambiente o vuol dire compatibilità tra economia e ambiente perché i quattro pilastri dell'agenda sono tutti ugualmente importanti. Ed è il pensiero integrato che manca perché noi pensiamo invece a compartimenti stagni. Mi scuso per chi ha visto già il prossimo grafico ma io lo ripeto perché trovo ancora sia il modo migliore per passare questa idea dell'integrazione. Questo è un grafico che descrive come funziona il mondo. Noi prendiamo dall'universo energia solare, immettiamo calore, per il resto avviene tutto all'interno del pianeta. Noi prendiamo il capitale naturale, umano, sociale, quello economico, lo combiniamo in un processo di produzione e produciamo pil, beni e servizi. Una parte la reinvestiamo e una parte la consumiamo. Il modo con cui produciamo ha un effetto sul benessere delle persone se abbiamo degli schiavi. A proposito di schiavi, in quella commissione sul futuro del lavoro abbiamo ripreso un'idea che io vado sostenendo da molto tempo che c'è un errore fondamentale nella contabilità d'impresa, in cui cioè le persone vengono contate come un costo. Avete mai sentito un manager che almeno una volta l'anno, magari a Natale, dice ai suoi dipendenti voi siete il vero patrimonio dell'impresa? Peccato che le persone non sono contabilizzate come patrimonio dell'impresa, ma sono un costo. Allora siamo andati a vedere perché questo avviene. C'è una regola della contabilità mondiale che dice che le persone non sono patrimonio dell'impresa perché non sono sotto il controllo totale dell'impresa. Perché c'è stato un periodo in cui le persone erano parte del patrimonio dell'impresa ed erano sotto il totale controllo dell'impresa, quando erano schiavi. Quindi per marcare la differenza rispetto a quel periodo li consideriamo un costo. Non è che abbiamo fatto questo enorme passo avanti. Anche perché questo produce un effetto importante. Vedete lì ci sono gli scarti. Ecco, quando pensiamo a come consumiamo e come produciamo, produciamo scarti naturalmente. Scarti fisici che impattano sul benessere, la plastica piuttosto che l'immondizia eccetera, impattano anche sui servizi del socio sistema, scusate dell'ecosistema, cioè la bellezza della natura, il lavoro che le api fanno per noi gratuitamente con l'impollinazione eccetera. E questo è un pezzo fondamentale della nostra responsabilità. Mia moglie è una fautrice dell'effetto eco nel frigorifero. Cioè fondamentalmente tu devi aprire il frigorifero, parlarci dentro e devi sentire la tua voce che torna indietro. Cioè tu compri soltanto quello che sai mangerai. Non è che uno va al supermercato compra. Diciamo poi vediamo che cosa ci faccio. Questa è una piccola cosa come chiudere l'acqua quando ci si lava. Cosa che ormai più o meno facciamo tutti. Il problema vero è che i sistemi produttivi continuano a scaricare rifiuti, scarti in modo insostenibile per il pianeta. Ma poi ci sono gli scarti umani, come dice laudato sì del Papa Francesco, e cioè i poveri disoccupati e gli emarginati. Allora quando parliamo di economia circolare, di cui tutti ormai parliamo, abbiamo capito che possiamo e dobbiamo riciclare le cose. Ma non abbiamo ancora capito che se noi non ricicliamo, uso questo termine, anche le persone, il sistema è insostenibile sul piano sociale. E guardate, molte delle cose che vediamo intorno a noi anche in termini politici, sono frutto della reazione delle persone che hanno capito che per loro il futuro non c'è. Pensate ai 650.000 occupati mancanti nel settore delle costruzioni in Italia. Tipicamente persone a relativamente bassa istruzione, a cui qual è il messaggio che gli è stato passato? Beh, voi se volete trovare un lavoro dovete diventare programmatore di computer di intelligenza artificiale, che non è proprio a portata di mano. Se noi invece avessimo passato nella scorsa legislatura una legge contro il consumo di suolo, avremmo un intero settore delle costruzioni rilanciato attraverso la riqualificazione invece che la cementificazione. Ecco dunque che quando noi prendiamo decisioni politiche economiche abbiamo bisogno di pensare in questi termini interconnessi. E questa è la nostra responsabilità come persone mediamente più istruite della popolazione. E abbiamo una responsabilità, in particolare gli imprenditori hanno una particolare responsabilità per dire al, questo è il mio sogno, al giornalista che l'intervista in televisione in uno degli ennesimi talk show, quando i giornalisti per esempio nell'estate scorsa chiedevano sul decreto dignità, ma secondo lei tre, quattro o cinque rinnovi dei contratti a termine, sembrava il problema su cui girava tutta l'economia italiana, io mi aspetto che un imprenditore, un'associazione imprenditoriale possa dire guardi non ha capito niente, non è quello il futuro. Il futuro viene per esempio dall'economia circolare. Certo se continuiamo a usare il CLUP, il costo del lavoro per unità di prodotto, come indicatore di competitività, dimenticandoci che oggi attraverso le tecnologie possiamo tagliare il 70% dei costi e non il 30% solo del costo del lavoro, è chiaro che un'impresa che si spossa sull'economia circolare e magari ha bisogno di più persone per gestire l'economia circolare sembra meno competitiva, benché abbia ridotto i costi e aumentato i profitti. Questo è il cambiamento di mentalità di cui abbiamo bisogno e questa è la responsabilità di persone che, come ho detto, mediamente sono certamente più istruite e addentro a questi problemi, per farle diventare conoscenza comune. Ma il punto per cui io faccio vedere sempre questo grafico è che mettendo i 17 goal su questo grafico, quella lista di 17 goal smette di essere una lista, ma diventa un piano per cambiare il mondo. Ora io mi rendo perfettamente conto che bisogna dedicare un po' di tempo a queste cose per capire la potenza rivoluzionaria. Mi rendo perfettamente conto che se uno parla di sviluppo sostenibile, mi rivolgo al nostro moderatore, il direttore prende e lo manda alla redazione ambiente, se uno ce l'ha, ma normalmente non la manda alla redazione economica o politica o internazionale. Invece ci sono connessioni straordinarie, per esempio il fatto che la Mercedes abbia deciso di investire decine di miliardi sullo sviluppo delle batterie elettriche per le automobili al potassio, per controbilanciare l'investimento vecchio di dieci anni, cioè partito dieci anni prima, dei cinesi sulle batterie al litio, è un problema geopolitico, perché l'Europa è ricca di potassio, mentre invece non ce l'ha il litio, il litio viene da zone del mondo che sono già in qualche modo sotto il dominio cinese. Questo è quello di cui parliamo, questa è la responsabilità che dobbiamo esercitare. Ma ce la possiamo fare? Questo è l'ultimo rapporto del Club di Roma, in cui si sono fatte una serie di simulazioni in quattro scenari diversi. E in questo grafico c'è la sintesi estrema. A destra ci sono il numero di goal dei 17 che pensiamo di poter raggiungere, a sinistra c'è il numero di vincoli planetari, di limiti planetari che gli scienziati hanno identificato. Vedete, nel 1980 all'inizio di quella curva noi rispettavamo otto vincoli e più o meno avevamo otto virgola qualcosa goal che potevamo dire di aver più o meno raggiunto. Nel 2015 abbiamo fatto un mezzo goal in più, ma nel frattempo abbiamo violato altri tre vincoli planetari. Cosa può succedere in futuro? Primo scenario, rosso, business as usual. Come vedete miglioriamo su alcuni goal. E certo, abbiamo già tirato fuori dalla povertà estrema 200 e passa milioni di persone, due miliardi di persone scusate, nel mondo. E l'economia continua a crescere, soprattutto non nei paesi occidentali e quindi questo produce gli effetti positivi. Ma poi nel 2050 probabilmente violeremo altri due goal, due limiti planetari. Linea arancione, crescita, crescita, crescita. Tutto quanto basato sul modello sulla crescita del PIL, certamente c'è un'accelerazione su alcuni aspetti, ma poi sempre lì andiamo a parare. Linea gialla, prendiamo seriamente gli SDGs, ma seriamente nel senso che facciamo un po' di più sull'occupazione, sull'educazione, sulla salute, cioè facciamo un po' di più in tutto, il cosiddetto mainstream. E vedete che miglioriamo, ma non risolviamo il problema dei vincoli planetari. Invece la linea verde è un cambiamento radicale di impostazione. Cosa vuol dire questo? Che non è affatto detto che riusciremo a evitare lo schianto. Anzi, è altamente probabile che questo schianto riguarderà masse notevoli di persone in giro per il mondo. E se non volete fare come quei ricchi della Silicon Valley che si stanno costruendo i bunker in Nuova Zelanda, notizia riportata dal New York Times e confermata da una fonte diretta, beh, allora la nostra responsabilità è esattamente quella di provare a imboccare quella linea verde. Almeno quella gialla, ma certamente quella verde. Ultima considerazione. in giro per il mondo c'è tantissimo lavoro su questi temi. Questo, per esempio, è un rapporto del World Forum for Science che mostra come gli SDGs siano interrelati, siano legati tra di loro. E la buona notizia è che non è vero che tutto dipende da tutto e quindi è troppo complicato affrontare questa tematica, cambiare modo di pensare. E ci sono alcuni obiettivi che hanno una positiva interazione, in altri casi hanno una interazione negativa e quindi ci sono dei trade-off e in alcuni casi sono neutrali. Come dicevo, la buona notizia è che chi vuole prendere seriamente questi temi può basarsi su tantissima letteratura. E concludo con l'Europa, perché una delle nostre responsabilità sarà non solo votare, spero, tutti, alle prossime elezioni europee, ma indicare dove voler andare. Questo è il rapporto dell'Ocse sulla grande sfida per chi vuole cambiare, non solo le imprese, ma anche i paesi, ed è la coerenza delle politiche. Allora, la buona notizia è che anche in questo caso un grosso sforzo è stato fatto su come si possono cambiare le politiche europee. Questo è il rapporto di una Commissione indipendente che ha lavorato per uno dei gruppi parlamentari del Parlamento europeo, di cui ho fatto parte, che ha rilasciato questo rapporto e ha indicato oltre 100 proposte concrete su come cambiare le politiche europee in qualche modo intorno a questi dieci argomenti. La prossima settimana potrebbe essere una settimana importante, perché il Consiglio europeo deve decidere se approvare ufficialmente una risoluzione sull'inserimento dell'Agenda 2030 al centro di tutte le future politiche europee. Questo vuol dire che i fondi per la coesione, per l'innovazione, per l'economia dovranno tutti essere declinati in termini di Agenda 2030. E quelle imprese, quelle regioni, quei paesi che non si saranno attrezzati per cambiare mentalità saranno penalizzati. Quindi qualcuno se la prenderà con i burocrati di Bruxelles, ma in realtà sarà solo colpa dei sistemi nazionali che non hanno preso seriamente questo cambiamento di paradigma. Ecco dunque la nostra responsabilità. La nostra responsabilità è far sì che questi temi, da qui al 26 maggio, siano al centro del dibattito, attraverso le posizioni che ognuno può avere, sia pubbliche che private, perché questo è un punto di snodo fondamentale. Cioè l'Unione europea, dopo aver venduto al mondo il concetto di sviluppo sostenibile, può continuare a essere la campionessa di sviluppo sostenibile per la sua economia, per la sua società, per il suo ambiente. Questa è la responsabilità che tutti noi abbiamo, questa è la sfida a cui siamo chiamati e spero che ognuno di noi risponda positivamente a questa sfida dicendo sì, io mi assumo la responsabilità di cambiare il mondo, perché non solo è possibile, ma è assolutamente giusto. Grazie a tutti.